E continuate a investire risorse per migliorare di fatto la differenziata? Sì, questo è un intervento particolarmente importante, era un'area molto delicata dal punto di vista ambientale. I cittadini un po' più anziani sanno qui le attività che sono svolte, è stata bonificata una parte dell'area, è stata ripavimentata tutta e l'obiettivo importante per i cittadini è quello di creare uno spazio solamente dedicato a loro che non vada più a interferire con l'attività operativa per il conferimento di tutti i materiali. Tra l'altro adesso essendo diventato un centro di raccolta e rifiuti si possono conferire tutti i rifiuti, pertanto i cittadini potranno accedere in funzione dell'orario e l'auspicio è che un intervento di questo tipo con gli investimenti anche importanti che sono stati fatti sia un'ulteriore spinta al territorio per migliorare ancora la raccolta differenziata, che sappiamo dà dei vantaggi da un punto di vista ambientale prima di tutto, ci dobbiamo porre responsabilità anche di lasciare un mondo più pulito a chi ci seguirà e dà dei vantaggi anche da un punto di vista economico perché i materiali riciclabili vengono poi valorizzati a dispetto di quello che si dice che noi poi mischiamo tutto, sappiate che non è assolutamente vero i materiali riciclabili danno un ritorno economico particolarmente importante alla società che poi ricade direttamente sui comuni. Ecco, rivediamo alcuni dati, alcuni numeri anche di questo intervento. Allora, l'intervento è su un'area di circa 5.000 metri quadri, l'investimento complessivo supera i 300.000 euro, siamo circa a 340.000 euro, si è strutturato in due interventi particolari, un'area bonificata dove c'è il travaso dei rifiuti e poi il ripristino e la regimentazione complessiva delle acque meteoriche e anche la riorganizzazione operativa con la ristrutturazione dove siamo in questo momento anche della precedente vasca di raccolta che è diventata l'area dedicata coperta alla raccolta dei rifiuti pericolosi. Ecco, ricordiamo anche le modalità di impiego di questa struttura. Allora, questa struttura avrà una doppia funzione, continuerà a essere la stazione di trasferenza per i rifiuti al mattino e quindi potranno accedere solo gli operatori GECO e gli operatori comunali, mentre al pomeriggio sarà aperta al pubblico come centro di raccolta in cui ci saranno la possibilità di conferire da parte degli utenti tutte le tipologie o quasi tutte le tipologie di rifiuti recuperabili e da mandare al corretto smaltimento. In particolare è stata allestita anche un'area in cui è possibile far confluire eventuali sacchi di plastica per quegli utenti che poi non riuscissero a lasciare fuori casa nel giorno corretto il tutto. Sì, abbiamo pensato che avendo ovviamente flussi turistici importanti nell'area di riferimento di mettere dei contenitori dedicati per esempio alla raccolta degli imballaggi in plastica come diceva lei, che cadono sempre nei giorni di metà settimana e non vicino al weekend dove c'è spesso l'arrivo di questi nostri villeggianti. Quindi questa è stata una soluzione alternativa l'altra soluzione alternativa mi ha messo anche la possibilità di conferire anche il materiale e i vetri, gli imballaggi in vetro qualora ci fosse necessità c'è una campana dedicata e ci sono anche appunto come dicevo per la plastica dei contenitori dedicati per la raccolta particolare. All'ingresso l'operatore compilerà un modulo? Sì, all'ingresso quando accedono nel pomeriggio ci sarà un modulo di controllo che consente di verificare prima di tutto che chi accede sia autorizzato o perlomeno sia residente o paghi la tassa rifiuti anzi paghi la tassa rifiuti presso i comuni che sono convenzionati per il servizio. Poi ci sarà il nostro operatore che controllerà con un modulo e segnerà su un modulo la quantità di rifiuti che vengono conferiti suddivisa per le varie tipologie che è una delle prescrizioni previste dai decreti autorizzativi per i centri raccolti.